Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai titoli. A un anno dall'alluvione del 15 settembre 2022 che nelle Marche causò 13 vittime e miliardi di danni è stato ritrovato nelle acque antistanti alle isole Tremiti il corpo di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara in provincia di Ancona, l'unica dispersa. Questa mattina il gruppo Carbinieri Forestale dell'Aquila ha informato il Presidente e il Segretario Generale della Regione Marche del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. Con il quale è stato comunicato il ritrovamento del cadavere della donna. Unitamente alla notifica è stata legata copia degli accertamenti effettuati dai Carbinieri Iris di Roma con i quali è stata attestata la compatibilità nella comparazione del DNA. Il ritrovamento del corpo era avvenuto appunto alle Tremiti ed è attualmente sepolto al cimitero di Vieste in provincia di Foggia. A nome dell'intera comunità, ha detto il Governatore Acquaroli, esprimo il ringraziamento e la riconoscenza ai militari e all'autorità giudiziaria per il lavoro che hanno condotto al ritrovamento di Brunella. La nostra gratitudine va alla Prefettura di Ancona, a tutte le forze dell'Ordine, alla Protezione Civile e alle altre istituzioni che si sono prodigate sin dai primi momenti nelle attività di ricerca.